Chiude qui la partita, una grande reazione da parte della squadra, non si sono mai disuniti nemmeno quando erano sotto nel punteggio e poi hanno vinto la partita. Luca, ti aspettavi una rimonta così? A un certo punto per loro la partita si era messa male, ma non si sono fatti scoraggiare, hanno continuato a crederci e a spingere. Alla fine sono riusciti a ribaltare il risultato, una grandissima prova di forza e carattere, di cui i loro tifosi saranno certamente fieri. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Al commento tecnico c'era Luca Marcheggiani, che ringrazio. È stato un grande piacere. Grazie. 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 Grazie.